Benvenuti sempre nell'ottavo capitolo del corso di montaggio video con Adobe Premiere ma questa volta nella seconda parte perché in dieci minuti nella scorsa lezione non avevamo fatto in tempo a dire tutto e quindi qualcosina me la sono tenuta per questa lezione Avevamo detto come importare dei file dentro a Premiere Piccola parentesi, mea culpa, vi avevo detto come aprire la finestrina per importare i file dentro a Premiere non vi avevo detto ma lo davo per scontato probabilmente sbagliando che per importare un file ovviamente dovete selezionare il file che volete importare e cliccare sul bottone apri oppure anche semplicemente facendo doppio clic dentro al file che volete importare non l'avevo detto, lo dico adesso finestrina, selezione del file o dei file tenendo premuto CTRL sulla tastiera e premere il tastino apri ok? questo per importare i file avevo detto alla fine della lezione precedente che però spesso è possibile lavorare con molti file anzi, spesso vi capiterà di lavorare con tanti file e come importare tanti file dentro a Premiere tutti con un colpo solo? è semplicissimo, esiste la possibilità di importare delle cartelle intere salgo un attimino di livello ipotizziamo che io voglio importare questa cartella chiamata materiale con un colpo solo tutta dentro a Premiere ovviamente potrò andare nel mio hard disk ok? e scegliere la cartella e trascinarla dentro a Premiere ma io vi avevo sconsigliato per il momento di utilizzare questo metodo capirete in futuro perché l'alternativa era il CTRL I o il doppio clic all'interno del pannello progetto e aprire questa finestra raggiunta la cartella che volete importare basta notare in basso qui vedete c'è un bottone chiamato Importa Cartella cliccando sul bottone Importa Cartella ovviamente dopo aver selezionato la cartella che volete importare voi importerete l'intera cartella con tutto il contenuto multimediale al suo interno Premiere creerà automaticamente una cartella dentro al pannello progetto le cartelle dentro a Premiere si chiamano raccoglitori oppure BIN in inglese e all'interno del BIN o del raccoglitore che avete appena importato o meglio che avete appena creato importando una cartella trovate tutto il materiale presente nella nostra cartella originale ok? quindi importare una cartella con dentro tanto materiale è molto molto semplice devo fare però una piccola precisazione devo entrare, me lo perdonerete, per qualche secondo in un piccolo tecnicismo di Premiere voglio spiegarvi come Premiere si collega a questi oggetti multimediali presenti sul vostro computer quando voi importate un file ovviamente per poter cancellare oggetti basta selezionarli dal nostro pannello e premere Canch sulla nostra tastiera lo do per scontato cose che mi rendo conto a volte non lo sono se volete selezionare tutti quanti i file presenti nel nostro pannello CTRL A questo è una nozione, questa è una combinazione di tasti che vale in generale per molti programmi chiedete approfondimenti nei commenti se forse esalto alcune cose fate domande, approfittatene perché magari vado avanti troppo rapidamente non essendo questa una lezione live magari do per scontate cose che in realtà non lo sono quindi dicevo per poter cancellare selezionate il file che volete cancellare premete Canch sulla tastiera oppure CTRL A ripeto sul Mac non ricordo verificherò CTRL A su Windows selezionate tutti i file e premete Canch dicevo quando fate questa operazione in realtà non state cancellando i file presenti sul vostro computer perché non accade questo perché quello che voi state facendo non è prendere fisicamente il file dal vostro computer e portarlo dentro a Premiere ma quello che state facendo quando importate dei file dentro a Premiere è creare un collegamento in inglese link cosa vuol dire? che quando voi importate un file in Premiere state dicendo a Premiere ehi Premiere ciao vorrei prendere questo file e vorrei lavorarci crei un collegamento a questo file e Premiere ti dice yeah eccolo il file te l'ho portato dentro al pannello progetto o meglio non ho portato dentro il file ho creato un collegamento al file che è presente sul tuo computer e quindi so io Premiere che quando devo farti vedere questo file mi collego al file presente fisicamente sul tuo hard disk quindi sostanzialmente cosa significa questo? che quando vado a cancellare questo file non vado assolutamente a cancellare il file originale presente sul mio computer però state molto attenti perché è vero il contrario se io questo file sul mio computer lo sposto o gli cambio il nome o lo cancello rompo il collegamento con Premiere e questo può essere molto 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 pericoloso e spiacevole volete un esempio? sposto questo file faccio un CTRL X anche qui è informatica generale CTRL X è un taglia ok? quindi prendo questo file lo incollo in un'altra cartella con CTRL V imparatevi questi tasti se non li conoscete perché è molto più pratico utilizzare la tastiera che il mouse ve l'ho già detto comunque CTRL V è l'equivalente di fare in colla ok? io sostanzialmente ho spostato questo file dalla posizione teoricamente Premiere non dovrebbe più vedete? non sa più esattamente come gestirlo anzi le nuove versioni di Premiere sono abbastanza intelligenti e riescono a scansionare l'hard disk e a capire quello che è successo però se io il file in questione non solo gli cambio posizione ma magari gli cambio proprio nome ok? è abbastanza certo che Premiere mi dice guarda il file non so che cosa sia quel file dove sta? ho perso ho perso ho perso il collegamento che devo fare? va nel panico ok? in altre parole avete rotto un collegamento ricapitolo facciamo una cosa ricapitolo anche ripristinando il file con un CTRL Z e rimettendolo dentro vi insegnerò in una lezione futura come ricollegare il file per adesso ricollego il file senza farvelo vedere però bang ho ricollegato il file ma non ve l'ho fatto vedere non perché sono sadico ma perché non voglio aggiungere troppa carne al fuoco dicevo ricapitoliamo ok? e vediamo un attimino che cosa abbiamo abbiamo detto ho detto che Premiere crea un collegamento con i file che abbiamo appena importato ok? fantastico questo collegamento indica Premiere dove si trova e come si chiama l'oggetto multimediale che noi vogliamo lavorare quindi quando importiamo un file noi stabiliamo un collegamento con l'oggetto o con gli oggetti presenti sul nostro computer se noi cambiamo posizione all'oggetto multimediale nel nostro computer probabilmente Premiere riesce a capire probabilmente dove avete messo la nuova posizione del file multimediale ma sicuramente se voi cancellate il file multimediale o gli cambiate nome Premiere va nel panico ovvero rompe il collegamento e questo può essere molto pericoloso quindi quando vi dicevo diverse lezioni fa siate ordinati era un avvertimento e un monitor proprio per evitare situazioni pericolose come queste perché vi avevo detto quando abbiamo creato il nostro primo progetto che io vi avrei rotto le scatole per tutto il corso sul fatto che dovete essere ordinati non per mia pignoleria ma perché essere ordinati vi avrebbe messo al riparo da molti problemi questo è un caso quello del della gestione dei collegamenti tra i file sul vostro hard disk e i file importati dentro a Premiere in cui dovete essere ordinati e in cui essere ordinati vi mette al riparo da tanti problemi quando create un progetto con Premiere abbiamo visto nelle lezioni precedenti che dovete indicare una path un percorso ok? ricordate? nuovo progetto dovete indicare un nome al progetto e un percorso dove creare il progetto dentro alla cartella che avete scelto come la cartella principale del vostro progetto il mio consiglio è di creare sempre una seconda cartella chiamata materiale chiamata video chiamata come volete in cui andrete ad inserire tutto il materiale che dovete lavorare se necessario ridiviso ancora in cartelle non so avete girato con una telecamera i primi piani create una cartella chiamata pp primi piani avete girato con una telecamera dove avete fatto soltanto paesaggi chiamate una cartella paesaggi eccetera eccetera in altre parole siate ordinati una volta che avete creato il vostro progetto ok? dentro una cartella e avete creato una cartella dove dentro avete ordinato tutto il vostro materiale siete sicuri che il vostro materiale è tutto racchiuso dentro una singola cartella e che a meno che voi non siate matti completamente e andate a cancellare l'intera cartella difficilmente andrete a perdere diciamo di vista i file su cui state lavorando e soprattutto se voi volete passare tutto il vostro progetto al vostro collega che vuole continuare il vostro lavoro non solo saprete che dovete dare il file più importante che è questo il file di progetto ma sapete che tutto il materiale a cui fa riferimento il file di progetto è contenuto dentro questa cartella quindi al vostro collega voi potete dare solo questi due file il progetto e la cartella con dentro i file e il vostro collega saprà come continuare il vostro lavoro ok? è un po' contorto forse quello che ho detto spero di essere stato chiaro soprattutto spero capiate quanto io sia sì è vero ripetitivo ma quanto sia importante quello che sto dicendo l'ordine siate ordinati siate precisi conservate i file dentro una cartella ordinata dentro alla cartella del vostro progetto consiglio non lavorate mai su hard disk esterni perché gli hard disk esterni si possono scollegare e voi potete perdere questo famoso collegamento e soprattutto gli hard disk esterni possono essere usurati da un grande lavoro di lettura e di scrittura evitate sicuramente di lavorare direttamente sugli hard disk quelli che si usano per portare i file da un computer all'altro ecco preferite sempre la copia dentro gli hard disk del vostro computer detto questo mi fermo nella prossima lezione vedremo meglio nel dettaglio come funziona questo famoso pannello progetto che è il cuore come abbiamo detto dell'intero lavoro con Premiere vedremo come lavorare con delle icone quindi come vedere bene il materiale su cui stiamo lavorando vedremo quali informazioni sono contenute in questa che è la lista vedremo come ingrandire vedremo come fare alcuni lavoretti con questo pannello prima di cominciare veramente a lavorare al montaggio video con Adobe Premiere se ho dimenticato qualcosa se avete domande se volete correggere qualcosa che ho detto di sbagliato perché posso per carità non sono perfetto aver detto qualcosa di sbagliato commentate questo video sono molto felice la collaborazione di tutti è sempre ben accetta è molto gradita se vi piace questo corso iscrivetevi al mio canale YouTube così che possiate sempre essere aggiornati sulle future uscite dei tutorial saranno tante lezioni quindi preparatevi venite a trovarmi sul sito www.fabioambrosi.it lì c'è l'indice con tutte le lezioni di Premiere e soprattutto dentro il mio sito ci sono tutte le lezioni che ho trattato fino ad oggi con approfondimenti e soprattutto c'è l'indice con tutti gli argomenti che affronteremo di qui in avanti grazie per avermi seguito buon proseguimento alla prossima lezione